Tutti gli uomini, gli uomini, tutti i tempi, sì, no, alla fine dei tempi. Se c'è qualcosa che non può essere partita, per la ragione, pensa che c'è quello di noi. Lo vuoi respirare bene, sempre. Perché? Perché c'è una macchina, non devi solo, attenzione, non devi solo credere in Gesù. Ma lo devi accogliere, che è un'altra cosa. Io capisco che la cosa va in semplice. Pensate che il Signore, il Signore, il Dio primo verso, è dentro di lui. E quando si comunica con noi, desidera di passare dal nostro animo, dal nostro storico, al nostro cuore. Cammino questo, molto di felice, perché noi non abbiamo una coscienza. Non lo stesso che non è una coscienza. Ficclici, perché, perché non è l'indietro di noi? Oddio, oddio, c'è un'altra volta che non fai un paio, ma non è, c'è un'altra città. Ora, per faremo il Dio, il corpo di Cristo, trasmette i sogni sul corpo di Cristo. Perché c'è un scuro di una sinistra che non è uno dei miei, perché c'è un scuro di un tempo di amore. Ma il comieno di il corpo di Cristo Qua? Diventi, perché grazia, il corpo di Cristo. C'è un'acchessa. Nessuno di voi può fare un esercizio. Se io vorrei decidere, nessuno può indicare a te del sè, il papirone. Io mi chiede, faccio parte della chiesa. Faccio parte della chiesa. Ma, vogliamo dire, io mi chiede solo un corpo di casa per andare a chiesa. Eppure, il vero che di questo cristiano risiede nel fatto che Dio ha deciso di chiedere il ameno a tutti voi, di direttamente, attraverso l'accoglienza, lo suo presenza, diventare un corpo di giusto. Ma, attenzione, la chiesa, soprattutto ciò di quale c'è un corpo, va dato, veramente, il potere alla relazione cristica, che è l'inistito nella città della città di Cristo. Ha detto, non solo la relazione di proseguimento, ma nella relazione, si possono accedere il medesimo domenico, che è l'unica di santo di luce. Con questo poletisce, che invece sui miei elefri cor Cai o che nei nostri strumenti scientifici proiettili? pizzo 5 nel frase il ruoto del secolo in relativo dell'integro di ruoto di valencia no è cuore tale tale, diciamo il senatore del secolo del secolo del secolo del secolo del secolo del butico ma non è come, come un cuore ma è un tale, come un risco in cui parezioni molto si sa Facciamo un attimo, una pausa, un silenzio, meditiamo e chiediamo allo sabato di farci comprendere questo mistero, ma non corretto, chiediamo allo sabato di farci comprendere, chiediamo allo sabato di farci comprendere. Sapete che guarda la chiesa di te? C'è Cristo sottanello, c'è Cristo che gli è che ti fa prodotto, c'è Cristo che gli è che la consulazione, c'è Cristo che gli è che la consulazione, c'è Cristo che gli è che la consulazione, c'è Cristo che gli è che la consulazione. E se io mangio Cristo, mangio la donna di Cristo, perché mai tanto? Così, facciamo un demogior di qualcosa. Se lo mangi Cristo, mangio la Dattoria di Cristo. Prima di te la scelta, io direi, e accogliamo dell'espero della presenza. Io lo faccio solo, fermo bene, e faremo un po' di spesa. Io lo faccio solo, so ora viene a livello, io direi, e faremo un po' di spesa. Io lo faccio solo, calme la Dattoria di Cristo. Io lo faccio solo, fermo bene, e faremo un po' di spesa. Io lo faccio solo, la ditta, io lo faccio solo, perpame la Dattoria di Cristo. La Dattoria di te la scelta, io direi, e nelle altre cose, e ci vediamo il secondo domenici. Nel finale dice, partecipando realmente del corpo del Signore nella tradizione del pannello eucalistico, siamo bene avanti al patrimonio, lui e tra di noi, perché c'è un solo padre, noi tutti non formiamo che un solo corpo, partecipando noi tutti di noi stessi. Signore, voi preparate tutti, ma non è meno. Tu mi sbagliate da un uomo che ci sono dei miei. In questo progetto di grazia usato il tempo, manca solo la nostra disponibilità. Ci sono entrambi collegati che ci crediscono di accogli di tutta la vita della nostra vita. Vogliamo essere liberi di essere avvolti come te, di essere trasformati in te, di essere capaci di amare come amato lui, di essere capaci di sentire come è seguito lui. Vogliamo sempre del tutto. E la tua presenza, del tuo corpo nell'ucalistia e di noi ci trasformi in te. Lo vogliamo, lo possiamo, ma non lo possiamo. Canto numero 204 Canto numero 204 Canto numero 204 Canto numero 204